sempre più omofobo, sempre più razzista, sempre più antissimita anche nei confronti delle persone che lo frequentano. La minaccia a questo punto dello Stato islamico è un qualcosa che va e abbiamo perfetta riprova rispetto a quanto dico che va al di fuori di quello che sono gli ambiti del cosiddetto califato ma che invade di fatto tutto quello che può essere considerato il mondo civile, la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto le tradizioni e i valori che ci contraddistinguono. Irrilevante a questo punto per me andare a registrare il fatto che queste poveri vittime fossero vittime che facevano parte di una comunità gay o che sia di fatto opera di un pazzo scatenato che ha aperto il fuoco contro centinaia e facendo più di 50 morti se non ricordo male. Lo Stato islamico in questo caso rivendica anche attraverso, ho sentito prima citare i cosiddetti social network, rivendica attraverso i social network quella che per loro diventa una vittoria, lo rinnovo nei confronti della civiltà, nei confronti della libertà e nei confronti di persone libere che di fatto dovrebbero, e uso purtroppo il condizionale, essere legittimate a fare un po' come vogliono ma in questo caso purtroppo non è accaduto. Grazie. Grazie a lei, è scritta a parlare, onorevole Palesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ferma condanna per la tragedia di Orlando. Una grande tragedia ci è provocata dall'odio e dalla mano di uno squilibrato sicuramente di un assassino. Sono stati colpiti valori fondamentali, c'è come la libertà, valori che riguardano la sfera dei diritti individuali. Ha vinto l'odio, non c'è dubbio. Odio c'è che bisogna fermareci ad ogni costo. Bisognerebbe veramente fermarsi quasi tutto il mondo occidentale, riflettereci su come l'Occidente si deve attrezzare per contrastare cesimili violenze. Esprimiamoci la nostra solidarietà al popolo americano, alle famiglie delle vittime e dei molti feriti. L'auspicio c'è che i 50 morti di Orlando servono veramente a far sì che tragedie del genere non debbano più né accadere né ripetersi. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare un'ora del Nainati, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Mi associo alle sue sentite belle parole, a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto. Mi trovavo negli Stati Uniti proprio in quelle ore della strage di Orlando e posso portare la mia testimonianza diretta su quanto a New York ci sia stato uno shock per quello che era avvenuto in Florida, ma questo shock purtroppo è più una condizione.